Sì, abbiamo dato il nostro contributo, convinto, stanziate le prime risorse per quello che concerne l'incendio, i vasti incendi che hanno riguardato Pescara, la pineta d'Annunziana, la costa dei Trabocchi, le tre province costiere, ma soprattutto è il momento nel quale però bisogna anche sottolineare che le risorse erano state tagliate nella convenzione che riguardava i vigili del fuoco e che bisogna dunque chiedere maggiore riguardo, più attenzione, più prevenzione, migliore programmazione anche per quanto riguarda la campagna della prevenzione degli incendi boschivi in questa regione. Il governo regionale e il governo Marsilio debbono prestare più attenzione su questo ed oggi debbono avviare immediate istruttoria per chiedere lo stato di emergenza nazionale e allo stesso tempo progettare in modo solido e convincente quelle che sono le risorse a disposizione per la tutela e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente con il PNRR. Da ultimo una battaglia del Partito Democratico e del centro-sinistra rispetto alle biblioteche regionali chiuse da mesi abbiamo stanziato e finalmente il Consiglio regionale e anche la maggioranza hanno condiviso questo emendamento la proposta appunto del Partito Democratico e del centro-sinistra che consentirà la sanificazione prima e la riapertura delle biblioteche regionali dopo. Due importanti battaglie che ci hanno visto in prima linea e che contraddistinguono un modo di fare opposizione assolutamente costruttivo e vicino al territorio.